Sono iniziate da poco le riprese di Marefuori 5 e questa nuova stagione è ovviamente molto attesa visto i tantissimi fan di questa serie e però c'è qualche polemica perché parte del cast che abbiamo visto in questo ultimo anno non sarà presente nella prossima stagione. Ci saranno diversi personaggi nuovi e personaggi ovviamente quindi tutti da conoscere e intanto voglio chiederti che cose ne pensi di questo cambiamento e se sei contento di vedere una nuova stagione di questa serie. Scrivi tutto nei commenti, ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube e anche ad attivare la campanella per non perderti i prossimi video in uscita. E noi a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao!